Ogni sindaco e il presidente del Lanci ha ancora maggiore responsabilità nei confronti della città e dei cittadini. I sindaci rispondono ai cittadini dai quali sono stati eletti e devono rispondere con un senso di responsabilità. Le lotte interne ai partiti non riguardano i cittadini ma devono invece portare ad una risoluzione dei problemi dei cittadini. Bene il dibattito interno ma che abbia uno sfogo positivo per la città e non negativo perché mandare una città alle elezioni è un danno per i cittadini di quel territorio.